Lo scopo di questo lavoro è stato quello di valorizzare la capacità che hanno i bambini di vedere sempre le cose e le persone, dandone una rappresentazione positiva. Grazie a tutti e le cose sono alla cucina. Ai nostri occhi è possibile vedere solamente le abilità che ognuno di noi ha e ci rendono speciali. Cozzutissimi, ci lavazziamo! Ci abbiamo buttato! Cozzutissimi come non siete mai usciti come prima come sbattoni e soldati! Vieni! Ci aspettano al lavoro! Forza! Vieni qua! I nostri sensi sono delle finestre sul mondo che ci permettono di scoprire. e di viverlo, ma ognuno di noi li utilizza in maniera diversa, in base alle proprie caratteristiche. Pane, piano... Ciao, benvenuti al lavoro! Dobbiamo quindi imparare a vedere sempre il mondo con gli occhi dei bambini e ricordarci quanto è bella la diversità. Ciao! 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 Ciao ciao! Ciao 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 ciao! Ciao ciao! Ciao ciao ciaouri a tutti! Grazie per la visione! Grazie a tutti!